L'ipotesi di una fondazione per la gestione di Villa Olmo sarà approfondita giovedì prossimo in un incontro tra l'assessore all'urbanistica del comune di Como Marco Butti e i responsabili di struttura SRL, la società di Roma che lo scorso 19 giugno aveva presentato alla Giunta una prima relazione sulla sostenibilità economica dei vari modelli di gestione della villa. Abbiamo raccolto materiale e analizzato la situazione nel dettaglio così da poterci confrontare e discutere con gli esperti di struttura per capire insieme quale strada sarà utile imboccare per approcciare il delicato tema della gestione di Villa Olmo, spiega l'assessore Butti. Nella prima relazione la società struttura suggeriva al comune, quale modello vincente per Villa Olmo, la fondazione di partecipazione, ossia un soggetto pubblico privato che ha la caratteristica di coinvolgere soggetti diversi dal fondatore e la previsione di un eventuale organo assembleare. Nell'incontro del prossimo giovedì si approfondirà tra i vari temi anche quello relativo proprio alla costituzione di una fondazione, conclude Marco Butti.